Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Nel video di oggi voglio parlarvi di un incontro di pugilato che ho visto sabato scorso e che mi è piaciuto veramente tanto, ovvero il match di box tra Terence Crawford e Sean Porter. L'incontro è finito con la vittoria di Terence Crawford come tutti si immaginavano. Infatti Crawford ha fatto contare il suo avversario per ben due volte facendo terminare l'incontro con la sua vittoria. Ecco Terence Crawford era il pugile quotato e infatti ha fatto valere le sue qualità tecniche a partire dal sesto round in poi. Quello che mi è piaciuto in questo incontro devo dire che è stato lo stile di boxare di Sean Porter che è un pugilato molto aggressivo e d'ha reso proprio nei primi round una box molto spettacolare. Infatti Sean Porter dal mio punto di vista ha dominato il match per i primi cinque round attaccando continuamente il suo avversario. Quello che invece non mi è piaciuto per niente è stato l'atteggiamento di Terence Crawford nei confronti del suo avversario durante il match. Infatti si vedeva alcune volte Crawford che rideva in faccia al suo avversario come per sottovalutarlo. Ecco questo è un atteggiamento che dal mio punto di vista è scorretto perché anche se Crawford sapeva di essere superiore nei confronti di Porter doveva utilizzare un atteggiamento un po' più umile nei suoi confronti. Quindi questo incontro è stato molto bello e in questo video ne approfitto per dirvi qual è la mia opinione sui pugili più forti attualmente a livello mondiale. E in questo incontro si è visto un Terence Crawford che nonostante la sua età di 34 anni è ancora uno tra i migliori pugili in assoluto a livello mondiale. E' chiaro che il pugile più forte in assoluto attualmente è Canelo Alvarez però escludendo Canelo ci sono diversi pugili molto promettenti e anche più giovani di Terence Crawford che sono veramente molto quotati a livello mondiale come ad esempio Gervonta Davis oppure Teofimo Lopez o ancora David Haney che è un altro pupillo di Mayweather fortissimo dal punto di vista tecnico. E diciamo che tra tutti questi c'è anche Terence Crawford che nonostante la sua età rimane uno dei pugili più forti in assoluto con delle grandissime qualità tecniche. Infatti Terence Crawford è un pugile molto forte dal punto di vista tecnico, è un tempista che nei suoi incontri non fa una box in attacco ma è un pugilato molto intelligente il suo. Infatti lui aspetta sempre l'attacco del suo avversario per contrattaccarlo con colpi d'incontro molto potenti. Infatti Crawford la maggior parte dei suoi match li ha vinti quasi tutti per KO mettendo a terra i suoi avversari ed è un pugile veramente fortissimo. Anche in questo match a me è piaciuto tantissimo al di là del suo atteggiamento scorretto nei confronti di Porter però quando ha cambiato marcia dal sesto round in poi non c'è stato niente da fare per Sean Porter che mi è dispiaciuto un po' per la sconfitta di Porter perché ha dimostrato di essere un pugile molto valido e che nei primi round ha fatto un pugilato molto spettacolare. Quindi questo incontro mi è piaciuto tantissimo e vi invito a scrivermi nei commenti qui in basso qual è la vostra opinione su questo incontro di box se l'avete visto. Se non l'avete visto vi invito a andarlo a guardare perché è un incontro spettacolare e molto bello da vedere dove si vede proprio la tecnica contro l'aggressività quindi le qualità tecniche di Terence Crawford contro l'aggressività e la forza fisica di Sean Porter che in questo caso ha prevalso la tecnica di Crawford. Spero vi sia piaciuto questo video e ho intenzione di fare altri video dove posso andare a discutere anche su altri incontri che si terranno prossimamente e soprattutto per condividere insieme a voi anche le opinioni sui pugili a livello mondiale che sono molto quotati attualmente. Ok mettete un like se vi è piaciuto questo video scrivete nei commenti qui in basso e vi aspetto nel prossimo video di box. Ciao a tutti!